ragazzi e buongiorno allora questo è il terzo video in collaborazione con copiz io parto sempre dall'idea di fare un bracciale invece mi escono gli orricchini mi escono gli orricchini e niente e io vi faccio orricchini e sono partita con l'idea di fare un modulino per un bracciale e niente mi è uscito sto orecchino cosa ci posso fare così la versione niente faccio vedere struttura dei vecchini allora vi serviranno delle tre per due cipollotti questo è il codice poi mi sembrano delle mini duo questo ricorgere meno questa per le fantasy poi vi serviranno delle 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 cipollotti da 3 da 6 mm 6 per 4 poi scopo 8 mm però sono 6 per 4 oppure no solo non lo so comunque questo qua il codice se vi interessa cipollotti da questa azienda copiz poi vi serviranno le locali quindi 0 questo quali codice sono a 10 grammi sono bellissime secondo me e poi le unici 0 della toho queste qua questo quali codice e queste qua non è che mi sfiggiano tanto devo dire poi vi serviranno delle paisley nere queste quali per sapere in fantasy e poi due monachele questo quali codice non è che lei in accenno stabile se non mi sbaglio ok passiamo sui materiali no si sotto al tutorial perché ho poco tempo ed è sta dormendo e via allora parto con l'inserire sull'ago una 11 0 una 15 0 un cipollotto da 4 mm una qui una 15 0 e un'altra un g 0 un altro cipollotto continuo così per per tre volte eccomi qua fatto finito porto la fine al filo e mi mi porta a fare un capito il capito lo faccio saltando la 15 0 vedete vado qui di qua così salto la 15 0 e si va beh eccomi qua anche qua vado 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 a quindi 0 ecco ecco e qua ho fatto adesso mi accingo a farli capietto ok ora vado a fare un paio di giri nelle nelle pennele per linea rock al saltando sempre la quinta la quindisero che sta qua in mezzo e vado a fare un paio di notini ecco qua ora mi porto a uscire dalla quindisero ora mi sono provato uscire la quindisero e vado a inserire una quindici una ondici due super duo due no due mini duo perché non metto a fuoco poi poi una ondici e un'altra quindici eccomi qua e vado a rientrare nella quindisero vedete rientra la quindisero rientro anche nella ondici zero rientro e qua vado a mettere sei quindici sei quindici e vado a saltare la cipollotto la cipollotto e mi inserisco nella rock al quindisero qua facciamo un'altra volta come abbiamo fatto prima una quindici una ondici due mini duo una ondici e una quindici e vado a rientrare nel nella rock al di mezzo un minchio nella rock al quindisici che c'è qua vedete eccomi qua ora vado a continuare a fare così per tutto il giro ora mi porto ad uscire dalle prime due rock al quindisero vedete e inserisco una quindici una ondici una paese così poi una ondici e una quindici e vado a saltare due quindici e a inserirmi nelle prossime due vedete nelle prossime due mi inserisco poi passo attraverso e due le due rocali ungi che stanno stanno in intorno al centro vedete poi prendo il trattamento delle due quindici e faccio la stessa cosa che ho fatto qua una quindici una ondici una paese così una ondici e una quindici e va a saltare due e vado a inserirmi nelle le prossime due vedete salto due e mi inserisco nelle ultime due continuate così per il tuo giro allora mi porto ad uscire dalla dalla paese da foro basso della paese vedete e quindi inserisco qua una ondici un cipolotto a 3 mm adesso adesso e l'altra ondici e vado a inserirmi nella nella mini 2 qua invece la mini 2 inserisco un cipolotto delle millimetri in mezzo alle millimetri in mezzo alle millimetri qui invece faccio il contrario no faccio il contrario faccio la stessa cosa una ondici un cipolotto a 3 mm una ondici e vado ad inserirmi nel nella paese nel foro basso della paese continuate così per tutto il giro ora mi porto ad uscire dalla ondici zero prima del cipolotto vedete la ondici zero come ho messo e vado ad inserire sei quindici due quattro sei giusto e vado ad inserirmi nel cipolotto solo nel cipolotto vedete ok poi prendo altre sei quindici e vado ad inserirmi dopo il cipolotto nella unge dopo il cipolotto vedete ok ora vado a fare così per il tuo giro mi inserisco mi inserisco mi inserisco e mi inserisco nel cipolotto eccomi qua continuate così per il tuo giro ora mi porto ad uscire sempre dalla locale da dove sono uscita prima veicolate dalla prima del cipolotto e vado ad inserire quattro e vado ad inserire quattro vado ad inserire quattro rocaille unge zero e mi inserisco nella paisley così ora ritorno ancora quattro e mi inserisco nella nella locale da dove esce la decorazione vedete eccomi qua poi aggiustatela giustamente voi fatti un paio di girette alla fine giro per renderlo più stabile magari sai ancora qua quattro e mi inserisco quattro e mi inserisco mi inserisco nella la locale vedete ecci la locale 11 che abbiamo qua ecco qua e continuo così per il tuo giro ma lo facciamo finiamo finiamo insieme questo giro eccomi qua eccomi qua allora adesso poi andrò a fare un capietto qua sopra la la paisley eh si metti a fuoco ti prego metti a fuoco qua andrò a fare un capietto e anzi lo faccio subito visto che edo non sei ancora svegliato ahahahahah dovrei cucinare della verità anzi adesso spengo e vado a cucinare mmm perché non entra oh dai su va bene va ok ciao ciao ciao